Ognuno il suo seme di Riccardo Rimondi. In una calda giornata di primavera si trovarono sottoterra tre amici semini Giorgio, Marco e Lucia. Il primo Giorgio crescendo diventò un bel pioppo, alto snello e un pelino storto. Amava ridere e giocare con il suo amico vento raccontandosi sogni leggeri e avventure profumate. Il secondo Marco negli anni divenne uno splendido abete con rami forti, robusti e aghi sempre più verdi. Era un po' timido e riservato ma ogni mattino sui suoi rami ospitava un tenero uccellino. E infine Lucia, una quercia raggiante dalla chioma paccioccona con lunghi rami e foglie lucenti. Abbracciava sempre tutti i suoi amici, era generosa e dal cuore grande. Una sera, mentre i tre amici stavano per addormentarsi, si scatenò all'improvviso una gelida tempesta. Ogni albero si strinse al suolo con le proprie radici, ma Giorgio il pioppo faceva tanta fatica a stare con i piedi per terra. Il vento forte scuoteva la sua chioma, a destra e a sinistra, sembrava che si dovesse spezzare da un momento all'altro. Per fortuna i lunghi rami di Lucia e le possenti radici di Marco riuscirono a mantenere Giorgio ben saldo al terreno. Il giorno dopo, quando la calda luce del sole tornò a splendere tra le foglie, i tre amici si ritrovarono circondati da un intero bosco. Pietro il platano, Beatrice la betulla e tanti altri alberi avevano aiutato Giorgio in un momento così difficile. Scoprirono dunque la bellezza e l'armonia che si prova a far parte di un bosco così unito e generoso, dove ciascuno può essere l'albero che vuole, sapendo di essere accolto e aiutato dai propri amici. Ogni bambino è custode di un seme. Lasciamo che ciascun bambino possa diventare il miglior albero possibile.